Allora gli avversari Allora gli avversari Nella stessa intervista abbiamo Ricastro e Atlantico Una partita incredibile Sommella si è infiltrato Allora ragazzi una partita incredibile Creatri il personaggio Il personaggio è solo qua I morini, 3-3, punteggio finale Allora facciamo parlare, prima Ricastro Cosa ci vuoi dire di questa partita? Sono una partita buona Erano primi in classifica Se faccio una bella partita è stata equilibrata Senti Vittorio all'inizio siete andati sotto Poi avete rimontato Una bellissima partita Sì è stata una bellissima partita Abbiamo lavorato contro una squadra Anche lei è una contendenza a vincere questo Siamo una buona squadra Deve lo temere solamente Forza Battaglione Battaglione Viva il Battaglione 5-3 La rimonte del Battaglione È stata una bella partita Tiene a te il risultato giusto Bravi ragazzi Bravi